Oggi vado a fare un po' di pulizie insieme a voi, anche perché lo sapete che per me una casa pulita è una casa ordinata. Inizio pulendo il mio piano cottura, ma adesso vado a utilizzare un prodotto che mi è stato gentilmente regalato dall'azienda Yedi, ed è lui, il VAC 2 Pro, il robottino che aspira e lava i pavimenti, che potete tranquillamente e comodamente collegare alla sua app e quindi grazie alla mappatura della casa farlo anche andare mentre voi siete appunto fuori casa tramite app. È veramente comodissimo. Eccolo qua in funzione, sta mappando tutta la casa e per me che ho tre gatti è veramente fondamentale avere un prodotto così. È favoloso perché come potete vedere grazie alla sua tecnologia 3D lui non va addosso alle porte e non si blocca negli angoli, ma semplicemente si rallenta e ci va intorno e oltretutto se trova degli ostacoli sul pavimento proprio lì schiva. È favoloso perché tra l'altro quando non ha il serbatoio dell'acqua passa anche sui tappeti aspirando pure quelli. Io non ho tappeti in casa e quindi questo ovviamente non posso mostrarvelo, ma funziona benissimo anche sui tappeti, mentre quando ha il serbatoio dell'acqua evita proprio di salirci. Come potete vedere sta evitando e schivando questo vaso in maniera completamente autonoma e intelligente. Volutamente dopo che ha mappato tutta la casa ho lasciato qua le ciabatte di mio marito per farvi vedere che se incontra un ostacolo che non era previsto non ci va addosso ma ci passa intorno schivandolo. È favoloso. Vi lascio ovviamente nell'info box il link per poterlo acquistare ed è un prodotto che io vi consiglio perché vi cambia veramente la qualità delle pulizie. Nel frattempo che lui lavora per me mi preparo un buon caffè perché sapete che è sempre l'ora di un buon caffè per andare a ricaricare le mie batterie. E mentre il caffè è su vado a riempire il serbatoio dell'acqua perché adesso è arrivato il momento di lavare i pavimenti. È facilissimo, basta inserire l'acqua nell'apposito vano e voilà il gioco è fatto. L'installazione è facile e veloce, basta rimuovere il pezzo dell'aspirazione, andare a inserire il serbatoio ed ecco qua, è pronto per lavarvi i pavimenti. Guardate questa macchia, vedrete come la elimina, è veramente efficace. Macchia sparita, et voilà! Adesso lui continua a lavarmi tutta la casa e io mi posso ovviamente dedicare ad altro. Come potete vedere è comodissimo, si infila anche negli spazi e pulisce veramente dovunque e in maniera eccellente. Nel frattempo io posso spolverare, pulire il bagno, fare insomma tutte quelle pulizie che se dovessi mettermi io a lavare i pavimenti ovviamente non potrei fare. Eccolo qua che sta lavando il mio marmo. Come vi ho detto il robottino è efficace su tutti i tipi di pavimenti e non li rovina. Io ho pavimenti in marmo, in graniglia genovese, in grass porcellanato ed è assolutamente fantastico ed è consigliato anche per chi ha del parquet. Quindi che cosa volere di più? Comunque vi lascio tutti i dettagli del prodotto nell'info box e il link per poterlo acquistare. Una volta che ha finito di lavare tutta la vostra casa in completa autonomia va alla base di ricarica per potersi ricaricare ed essere pronto al prossimo lavaggio. Potete anche decidere dalla app di farlo partire ad esempio lavare solo una stanza, quella che vi serve in quel momento. Ed ecco qua, una volta che si sta ricaricando vado a svuotare il serbatoio della polvere e guardate quanta ne ha aspirata tra polvere e peli, favoloso. E vado anche a svuotare il serbatoio dell'acqua che è rimasta e a rimuovere e lavare il panno. Guardate anche questo com'è sporco, vuol dire che ha lavorato alla grande. Et voilà! E adesso finalmente mi bevo il mio caffè e vi lascio tutti i dettagli nell'info box. Mi raccomando acquistatelo perché vi cambierà la vita. Ciao!